Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio e l'inizio della lettera agli ebrei nel fare l'elogio di Giovanni Gesù lo colloca all'interno della storia della salvezza della storia dei diversi modi e delle molte volte con cui Dio ha voluto entrare in relazione con gli uomini prima con la legge garanzia della sua presenza in mezzo al popolo e fonte dell'identità di Israele in mezzo agli altri popoli poi con i profeti che hanno richiamato il popolo alla fedeltà dell'alleanza poi nell'attesa del ritorno del profeta Elia che avendo dimostrato zelo ardente per la legge fu assunto in cielo e salì nel turbine verso il cielo infine con Giovanni il nuovo Elia il più grande fra i nati di donna eppure tutti questi modi sono ormai superati nel regno anche il più piccolo anche l'ultimo arrivato è il più grande di Giovanni cioè ha accesso ad una relazione con Dio diretta e personale ad una grazia sovrabbondante al perdono radicale di ogni male è accaduto l'impensabile Dio si mette in relazione con gli uomini senza mediazioni o meglio con la sola mediazione del figlio quale violenza bisogna fare su di noi per entrare nel regno dei cieli buona giornata a tutti